Parliamo adesso di news e di calcio in Casa del Pescara con il collegamento in diretta con Massimo Profeta. Buongiorno Massimo. Sì, buongiorno a te Marina, un saluto anche agli amici di visione d'ascolto. Allora, è una giornata questa molto intensa per Sebastia e Delicarri che sono a Milano dalle 11 di questa mattina. Una giornata ricca di impegni, soprattutto di incontri. Parliamo subito, andiamo dritto al cuore del problema perché alla Pescara interessa non poco il centrocampista del Padova, 29 anni, classe 93, Simone Della Latta. Tra l'altro stiamo vedendo qualche gol nel filmato che stava andando in onda proprio in questo momento Roberto Chirchi, il nostro regista. Simone Della Latta è un centrocampista di forza, sostanza e gol, ben sei, nell'ultima stagione con il Padova. Dieci, due campionati orsono, sempre nelle fila del Padova. Al Padova però interessa De Marchi, quindi ci potrebbe essere questo scambio. Che cosa può succedere oggi? Potrebbe anche succedere che si concretizzi questo scambio, però il DS della Padova, Mirabelli, chiede oltre a De Marchi anche un indennizzo. Sull'Escano il suo agente, Gerry Palomba, è stato categorico. Ha scelto Pescara, l'attaccante argentino classe 96. Eccolo qua, in gol proprio contro il Pescara nello scorso mese di ottobre. Questa operazione Marina potrebbe anche chiudersi a prescindere dalla volontà di clemenza che, come noto, è richiesto dall'Entella, dal club ligure. Ma il fantasista non ha ancora trovato l'intesa sull'ingaggio. Col Monza andranno solo sottoscritti accordi già predefiniti. Vedete proprio in questo filmato l'intervista di Sorrentino che è stato acquistato appunto dal club Brianzolo con la stessa formula. Percorso inverso per il portiere Daniele Sommariva, classe 97. Il centrocampista Luca Lombardi, classe 2002, ex Terramore Canatese. Lo scorso anno 29 presenze con la Vis Pesaro. In prestito secco arriverà il greco Siatunis, classe 2002. Una sorta di schermo davanti alla difesa. Due presenze nel campionato di Serie B con i Brianzoli, ex giovanili Sampdoria. Le altre trattative. Milani sarà ufficializzato lunedì prossimo, 4 luglio, accordo totale sia con il calciatore che con la società. Il Pontedera che detiene appunto il cartellino. Ex giocatore dell'Empoli, classe 2001, ripetiamo, sarà acquistato dal Pescara a titolo definitivo. Di fatto definita anche la trattativa con la Sassuolo per il prestito del cursore di fascia destra Matteo Saccani, classe 2001. In grande evidenza, lo scorso campionato nella Vis Pesaro. Virtualmente chiuso anche l'accordo con il Cittadella per l'attaccante Luigi Cuppone, classe 97, ex Casertana e Potenza. Dovrebbe arrivare Cuppone in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione del Pescara in Serie B. Nel ruolo di regista, Delicarri punta su Pezzella, ex Siena, Reggiana e Modena, ma di proprietà della Roma. Con il probabile arrivo della Latta, staremo naturalmente a vedere, non ci sarebbe spazio per la mezzala Luca Mora. L'esperto centrocampista, classe 88, è in scadenza con la SPAL. Infine, ci salutiamo qui Alessandro Iacobucci, portiere pescarese di 31 anni e tornato al Sud Tirol. Pensate, insomma, il Sud Tirol è stata la prima squadra per quanto riguarda appunto la carriera di questo ragazzo. Addirittura 11 anni fa il Sud Tirol militava in C1. Quest'anno è stato promosso la matricola, praticamente la nuova matricola del campionato di Serie B. Una promozione storica per il Sud Tirol. Ebbene, Iacobucci ha giocato 11 anni fa nel Sud Tirol, la prima esperienza da professionista. Quella squadra, il Sud Tirol, era allenata dall'ex allenatore del Pescara Giovanni Stroppa. Questo è quanto, naturalmente, le prossime notizie, prossimi news nel TG8 delle 19.50. Grazie a te!